Un avviso agli agricoltori affinché a fronte della siccità che persiste da mesi segnalino gli eventuali danni subiti. L'iniziativa dell'assessorato regionale all'agricoltura e anche il sindaco di Sciacca e l'assessore Mandracchia questa mattina invitano i produttori a presentare le stanze agli uffici saccensi dell'assessorato regionale utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito internet del comune e presso le organizzazioni di categoria. Per Nino Indelicato della Copagri si stanno generando però false aspettative perché lo stesso assessorato regionale specifica che la presentazione delle stanze non significa che saranno erogati aiuti economici. Sotto un aspetto diciamo amministrativo e di sensibilità rispetto a un'avversità atmosferica quale quello è il danno che sta provocando la siccità, perfetto, non fa una grinza. Io sono responsabile, io sono il dottore Scimò e quindi mi trovo di fronte a questa responsabilità e allerto gli uffici e sollecito gli agricoltori in termini generali che debbano fare le domande. Ma questo non è il vero perché mette a nudo l'assenza della politica perché con la legge 102 gli agricoltori al 95%, 97% non avranno diritto, non avranno diritto perché mancano dei requisiti per la situazione oggettiva e soggettiva in talone caso, quindi dell'azienda e dell'agricoltore. Al momento tra l'altro è stato solamente avviato l'iter per la dichiarazione dello stato di calamità. Insomma, si stanno illudendo gli agricoltori con la presentazione di segnalazioni di danni che per indelicato non si tradurranno in nulla di concreto. Era sufficiente, dice la segnalazione unica da parte dell'amministrazione comunale. Le procedure sono al momento in cui c'è il decreto e ancora non c'è un decreto emanato dal Ministero rispetto allo stato di calamità. È stato chiesto, quindi deve essere affrontato, almeno le notizie che noi abbiamo sono queste. Quindi questo è un momento preparatorio di sollecitazione. Io non contesto la lettera in sé per sé, ma quello che si può innescare in generale possono essere le amministrazioni comunali che segnalano all'assessorato regionale allo stato di calamità. Difatti io ho contattato sia il sindaco telefonicamente che l'assessore all'agricoltura di Sciacca e loro si sono già date disponibili e sensibili alla questione. Questo per evitare carte, sovracarte, eccetera. Non è tanto a perdere tempo, ma anche falsa illusione di agricoltori che ignare e sperano di avere un aiuto. Il responsabile Copagri evidenzia poi che proprio la legge 102 alla quale si fa riferimento nell'avvisa non consentire aiuti economici o risarcimento e cita l'esempio dei danni subiti dagli agricoltori per l'alluvione del 25 novembre dello scorso anno. Solo Sciacca ha fatto circa 365 domande. Di queste circa 15 persone in teoria potrebbero avere un aiuto perché rientravano nei parametri, nei paletti, nei requisiti che richiedeva la norma comunitaria e quindi la legge 102. Ma delle tre condotte Sciacca, Ribera e Bevona, va bene, nemmeno a 50, non ci arrivano a 50 perché poi il numero esatto non si può sapere. Grazie a tutti.